buongiorno a tutti e ben ritornati sul mio canale tutto dal web dopo l'uscita di beatrice luzzi nella casa del grande fratello non ci sono state le reazioni che il pubblico si aspettava a parte qualche caso raro tipo fiordaliso e vittorio gli altri g e fini invece si sono dimostrati più preoccupati per la festa di compleanno di massimiliano varrese delle attività da fare dell'assenza della musica in più dell'uscita della loro inquilina soprattutto per un fatto così grave così sul web è scoppiata una grossa polemica i concorrenti in questione sono stati duramente criticati dai telespettatori sul caso però colpo di scena è intervenuto anche alfonso signorini che ha detto la sua su instagram ecco cosa scrive il conduttore del grande fratello la mancanza di empatia dimostrata quest'oggi da alcuni concorrenti del grande fratello mi lascia letteralmente senza parole vi aspetto a lunedì ovviamente signorini ha perfettamente ragione qualcuno ha provato a giustificare anita letizia e anche gli altri dicendo che molto probabilmente non avevano svelato ai ragazzi il vero motivo dell'uscita di beatrice ma anche se fosse così questo non basterebbe a spiegare i loro comportamenti a dir poco irrispettosi